un cervello un corpo o tutti e due cosa cerca una donna in un uomo e cosa cerca un uomo in una donna corpo cervello o tutti e due ecco io oggi risponderò a tale cruciale quesito un quesito che ho probabilmente già affrontato in altri video ma oggi mi va di ridirlo qui il mio pensiero allora una donna di oggi secondo me in un uomo la maggior parte cerca sia il corpo che il cervello però devo dare le percentuali ok secondo me il corpo al 70 per cento il cervello al 30 per cento ok quindi una donna secondo me di oggi guarda o meglio cerca di un uomo il corpo di quell'uomo al 70 per cento e il cervello di quell'uomo al 30 per cento circa ok e questo è il mio punto di vista un uomo invece in una donna e parlo di uomo di oggi in una donna cerca sia il corpo che il cervello però devo dare le percentuali ed è secondo me che cerca una donna al 90 per cento il corpo e al 10 per cento il cervello ok perché perché secondo me l'uomo di oggi è pisello centrico è un porco è un maiale questo che significa che vuole svuotare il pisellino nella pesca ok vuole intingere vuole inzuppare il biscotto nel tè ok nel latte ok questo che significa che vuole fare sesso la donna invece se dovesse cercare sesso non diverrà mai io donna io cerco sesso ma starà zitta sarà in silenzio e probabilmente cerca in un uomo sia la componente fisica che la componente mentale però quella fisica secondo me al 70 per cento e quella mentale al 30 per cento ok invece l'uomo molto di più il corpo rispetto al al cervello di una donna ok questo è il mio punto di vista ora non mi venite a scrivere se è un testa di cazzo non capisci un'email da ceppa di minchia se è un coglione se è un deficiente perché ripeto che questo è un mio parere da leandro è tutto video breve semplice ma auspico interessante buona serata buona giornata al prossimo video